Intro Bentornato Gutier, bentornata Entriamo nel merito del pannello di controllo andando a parlare dell'account utente E' giunto il momento infatti di iniziare la descrizione delle sezioni interne al pannello di controllo Dico subito che lo scopo non sarà quello di descrivere tutte quante queste sezioni in quanto alcune sono talmente semplici da risultare praticamente scontate e non aggiungerebbero valore al percorso didattico altre invece sono di livello molto avanzato e le competenze necessarie non sono correlate a questo percorso didattico Inizio la descrizione con la sezione account utente come puoi vedere da questa schermata, da questa immagine il pulsante account utente è il primo della lista una volta che hai avuto accesso al pannello di controllo se ti trovi in visualizzazioni di icone Questa sezione consente di cambiare le impostazioni dell'account utente le password degli utenti del computer che condividono il pc stesso ma anche qualcos'altro Aprendo il pannello di controllo appunto e cliccando sull'icona relativa si aprirà la sezione per interagire con alcuni parametri Una premessa già evidenziata nella precedente lezione è che le voci che descriverò sono riferite alla versione Windows 7 Ultimate Ciò per indicare, per sottolineare che alcuni di questi pulsanti, alcune icone potresti non trovarle oppure potrebbero non funzionare nella maniera descritta in queste lezioni All'atto dell'accesso in questa sezione avrai presentati i pulsanti su due colonne Questi pulsanti ti permetteranno di accedere ad ulteriori sottosessioni Nello specifico potrai visionare Crea una password per l'account che ti permetterà di inserire una password per l'accesso a Windows Cambiare l'immagine del tuo account la icona che rappresenta il profilo Modificare il nome di accesso al computer Modificare il tipo di account se con limitazioni oppure ad accesso totale Gestire un altro account quindi poter aggiungere N profili Modificare le impostazioni di controllo dell'account in modo da dare un margine di sicurezza migliore al sistema operativo Oppure gestire le credenziali che permetteranno di accedere in maniera molto più semplice a cartelle e risorse ad esempio di una rete Oppure creare un disco di reimpostazione della password qualora tu una volta impostata non la ricordassi più collegare il profilo di account utente ad un ID utente online ossia ad un servizio che tu normalmente puoi utilizzare su internet accedendo magari a dei portali così facendo migliorerai l'accesso e la condivisione ai tuoi file Una sezione particolarmente spinta dal punto di vista delle competenze è la gestione dei certificati di criptografia dei file che ti permetterà di gestire appunto i certificati per criptografare i file all'interno del tuo computer all'interno del tuo disco rigido Oppure configurare le proprietà del profilo utente ed infine modificare le variabili d'ambiente Gli ultimi sono appunto quelli che descriverò in maniera marginale in quanto le competenze necessarie sono abbastanza spinte per questo livello del percorso didattico Allora, come accediamo alla sezione utente? Una volta che hai cliccato quindi sulla sezione account utente ti si srotolerà questa configurazione questa immagine che rappresenterà sulla colonna di destra e sulla colonna di sinistra i vari pulsanti per poter entrare nelle sottosezioni quindi sarà sufficiente cliccare su uno di questi pulsanti per entrare nella sottosezione ed impostare il parametro qui evidenziato Partiamo appunto con Crea una password per l'account Una volta che clicchi sul pulsante relativo ti si presenterà questa schermata non dovrai far altro che impostare la password di accesso al sistema operativo e nella sezione inferiore dovrai ripetere la password per confermarla Potrai altresì digitare un suggerimento per poterti ricordare eventualmente la password qualora lo dimenticassi In pratica cosa accade? Nel momento in cui accendi il computer e si avvia il sistema operativo per terminare l'avvio del sistema operativo ed accedere al desktop dovrai digitare la password che avrai creato altrimenti non potrai utilizzare il sistema operativo Esiste un campo come detto che ti permetterà di avere un suggerimento che tu stesso o tu stessa avrai generato per poter ricordare la password qualora tu l'avessi dimenticato E' buon uso naturalmente non utilizzare un suggerimento molto semplice per evitare che utenti estranei che leggano tale suggerimento possano attingere alla password che avrai inserito inserisci quindi come detto la password ed eventualmente il suggerimento e poi clicca su Crea password Dal successivo riavvio come detto dovrai digitare la password per accedere a Windows Poni attenzione particolarmente alla digitazione sia in fase della creazione della password sia in fase di inserimento della password per accesso al sistema operativo questo perché le lettere maiuscole sono ben diverse dalle lettere minuscole dal punto di vista dell'acquisizione del parametro password altra sezione è cambia immagine da questa sezione potrai cambiare l'immagine o meglio l'icona che rappresenta il tuo profilo che avrai creato seleziona quindi una di queste immagini che avrai qui rappresentate oppure nel caso in cui tu voglia inserirne una personalizzata cliccando sul pulsante cerca altre immagini potrai acquisire una tua immagine nel momento in cui si aprirà esplora risorse per individuare l'immagine o la foto in questione altra sezione è modifica nome account una volta che avrai accesso a questa sezione potrai inserire il tuo nuovo nome o meglio il nome che rappresenta il tuo account e una volta cliccando sul pulsante modifica nome avrai la possibilità di cambiare appunto il nome stesso e al successivo riavvio avrai presentato il nuovo nome altra possibile sezione è modifica il tipo di account tramite questa sezione puoi cambiare le libertà passami questo termine di movimento dell'utente infatti andrai ad alterare le autorizzazioni per l'uso delle applicazioni oppure per la capacità di modificare le impostazioni del sistema in base al tipo di account che genererai per i vari utenti questo perché un amministratore è in grado di eseguire qualsiasi azione vita e morte del sistema operativo anche quindi azioni non corrette distruttive appunto in quanto dispone di accesso completo al sistema stesso creando invece un altro account e non fornendogli le autorizzazioni complete potrai limitare le sue capacità di movimento all'interno del sistema operativo stesso in ambito di utilizzo delle applicazioni e variazioni delle impostazioni se non hai creato altri account sia in fase di accesso al computer sia in questa sezione troverai soltanto la voce di amministratore che è quella predefinita nel caso invece esistano altri account potrai variare le autorizzazioni tra utente standard oppure amministratore a seconda delle due volontà e allora potrai fornire accesso completo anche ad un altro utente etichettandolo come amministratore oppure accesso limitato etichettandolo come utente standard come aggiungere un altro account proprio dalla sezione gestisci un altro account infatti tramite questo pulsante potrai attivare n accessi e fornirli un adeguato livello di controllo al tuo computer e allora cliccando su pulsante crea nuovo account dovrai inserire all'interno di questa sezione il nome che avrai scelto o che avrà scelto l'utente e potrai selezionare l'opzione utente standard o amministratore dopodiché cliccando sul pulsante crea account avrai realizzato un nuovo accesso esistono tre tipi di accesso al sistema operativo l'utente standard che è quello utilizzato per il normale impiego del computer l'utente amministratore che deve gestire completamente il computer in ogni azione in ogni opzione in ogni impostazione in ogni applicazione per cui deve essere esperto o conoscitore del sistema operativo ma ne esiste un altro chiamato guest ossia cliente che normalmente viene assegnato all'utente in maniera temporanea e avrà un accesso limitato in quanto non potrà accedere a tutte le cartelle le impostazioni e ai file protetti da password diciamo che lo puoi vedere come alternativo all'utente standard con un esempio forse mi spiego meglio supponi di avere un figlio o una figlia e vuoi consentire l'accesso al tuo computer oppure anche se hai un utente adulto ma le sue competenze sono abbastanza limitate perché ha poca esperienza ciò potrebbe causare danni al sistema operativo lo stesso allora fornisci un accesso guest e limiterai le sue possibilità di interagire con le impostazioni del sistema operativo in questo caso una volta che avrai cliccato sul pulsante guest si presenterà questa schermata e ti sarà sufficiente cliccare su attiva per fornirgli le autorizzazioni di accesso dopodiché potrai impostare i parametri che ormai già ben conosci accedendo a questa sezione troverai appunto il pulsante omonimo il quale ti permetterà di attivare l'account a seguito di una richiesta dell'immagine presentata nella slide precedente aggiungo che ogni account a prescindere dai suoi livelli di accesso è personalizzabile in termini di nome password tipo di immagine icona i vari colori suoni programmi impostazioni genere a meno che non abbia delle limitazioni in quanto non ricopre il ruolo di amministratore una volta che avrai creato uno più account quando arriverà il momento che ti si presenteranno i pulsanti dei vari account oppure se il sistema operativo è avviato e disconnetti momentaneamente la sessione oppure cambiutente si presenterà un numero di icone a schermo corrispondente al numero di account presenti nel sistema operativo in pratica il numero di accessi che avrai autorizzato ad accedere al tuo computer in pratica ogni utente a cui avrai concesso la possibilità di accedere al sistema operativo le icone che si presenteranno potranno ricoprire naturalmente il ruolo di amministratore o utente alternativo cliccando sull'una o l'altra icona potrai a questo punto accedere al sistema operativo o in maniera completa se il determinato profilo è stato autorizzato a piene credenziali quindi con accesso completo oppure limitata se gli è stato creato un account guest oppure l'account di un utente standard all'atto dell'installazione del sistema operativo viene creato il profilo di amministratore sarà poi egli stesso che potrà decidere se e quanti altri account far accedere al sistema operativo stesso come contorno aggiungo che una volta che hai creato vari account al primo accesso dovrai attendere qualche secondo affinché il sistema operativo esegua una procedura che gli permetterà di creare il nuovo profilo il nuovo desktop che in seguito l'utente potrà personalizzare in base ai suoi piaceri ti volevo far notare che all'interno della sezione per la gestione dell'account trovi un pulsante denominato imposta controllo genitori una volta che avrai cliccato su questo pulsante si presenterà questa nuova schermata e in base agli utenti che saranno stati selezionati potrai impostare sull'uno o l'altro utente delle limitazioni determinate da questa opzione controllo genitori a cosa serve questa opzione in pratica potrai impostare delle limitazioni d'uso del computer o di accesso alla rete al fine di tutelare l'utente di un determinato profilo se ad esempio è un bambino qui è rappresentata una schermata risolutiva nella quale io ho simulato una limitazione di accesso al computer in base all'orario una limitazione in base all'età e una restrizione su dei programmi in pratica ho limitato l'utilizzo di alcuni programmi a questo utente chiamato prova in pratica tu potrai impostare restrizioni di orario restrizioni nell'utilizzo dei giochi installati nel sistema operativo oppure in ambito di utilizzo di alcuni programmi specifici dalla lista dell'account quindi seleziona quello sul quale vuoi applicare il controllo genitori e nella sezione successiva potrai scegliere di attivare o disattivare le limitazioni su questo determinato account quelle appunto appena viste si parte dalla limitazione per fasce orarie in questa schermata potrai selezionare in base ai giorni e alle 24 ore quale fasce orarie consentire all'utente di questo specifico account in questo caso io ho liberalizzato l'accesso al computer tutti i giorni dalle 8 di mattina alle 22 ma tu potrai variarli concedendo ad esempio magari accesso totale per il fine settimana o in base alle tue necessità in questo modo cosa accadrà all'utente se proverà ad accedere al computer dal di fuori delle fasce orarie che tu avrai consentito avrà la notifica di accesso vietato oppure gli sarà reso impossibile avviare determinati giochi o programmi se tu in qualità di amministratore non glielo concedi altra limitazione come detto è quella dei giochi in questa schermata potrai decidere di consentire tutti i giochi senza che vengano classificati oppure limitare l'accesso a tutti i giochi che sono etichettati da una determinata struttura in base alla fascia d'età io qui ho simulato l'utilizzo di giochi che sono etichettati fino ai 12 anni per cui per i giochi vietati ai minori di 12 anni non potrai avviare il singolo gioco oppure potrai limitare l'accesso a giochi se vengono etichettati come giochi di paura oppure che rappresentano violenze oppure che si evidenziano droghe discriminazioni contenuti sessuali e quant'altro in base alle tue esigenze o in base come meglio credi alle esigenze dell'utente al termine dovrai cliccare naturalmente su ok altresì potrai anche limitare all'interno della lista dei giochi l'uno o l'altro in maniera specifica selezionando uno di questi segni di spunta per poter bloccare sempre questo o l'altro o un altro determinato gioco a termine anche in questa sezione dovrai cliccare su ok il controllo per la sicurezza dell'utilizzo del sistema operativo può naturalmente anche essere implementato grazie a programmi che puoi installare all'interno del sistema operativo allora andiamo ad accedere al pannello di controllo cliccando su start poi pannello di controllo ed infine andiamo a cliccare su account udente come puoi ben vedere all'interno di questa sezione avrai alcuni pulsanti che ti permetteranno di variare alcune impostazioni all'interno dell'account in questione come prima cosa andiamo a creare una password per l'account attualmente in uso come puoi vedere da questa icona sulla destra qui rappresentata con credenziali di amministratore cliccando su crea una password potrai inserire la password digitandone una che hai piacere dopo averla inserita una volta dovrai naturalmente ripeterla e ripeterla nello stesso modo se vuoi puoi anche digitare un suggerimento in questo caso metto il nome del mio sito in quanto la password che ho inserito è appunto The Goodly dopodiché puoi far acquisire la password cliccando sul pulsante crea password naturalmente come dicevo prima evita un suggerimento molto banale per evitare che qualsiasi utente che magari ti conosca potrà aver libero accesso al sistema operativo clicchiamo quindi su crea password e attendiamo la creazione della password a questo punto la password sarà stata acquisita al riavvio per poter accedere al sistema operativo saremo costretti a digitare questa password potrai anche modificare la password inserendo dapprima la password corrente e poi per due volte inserendo la nuova password ed infine digitare se tu vuoi il nuovo suggerimento potrai altresì rimuovere la password inserendo la password che abbiamo precedentemente inserito dopodiché cliccando sul pulsante rimozione password avrai rimosso la password per cui in questa nuova situazione non dovrai più digitare la password per accedere al sistema operativo cliccando sul pulsante modifica nome account potrai cambiare il nome che adesso vedi visualizzato digita un nome a tua scelta dopodiché clicca sul pulsante modifica nome la modifica del tipo di account ti permetterà di impostare ad ogni utente che successivamente creerai le credenziali di amministratore utente standard oppure come vedremo in seguito anche guest in questo caso non avendo creato altri utenti non posso variare la posizione dell'attuale utente che per forza di cose dovrà essere un amministratore andiamo invece a gestire un altro account quindi creare un nuovo account come puoi ben vedere ho già presente il pulsante corrispondente all'icona dell'amministratore con il nome The Goodly e il pulsante guest se volessi attivare questa credenziale di cliente quindi con degli accessi limitati e magari anche temporani sarà sufficiente cliccare su questa icona e nella successiva schermata cliccare di nuovo sul pulsante attiva l'account guest sarà reso attivo e quindi al riavvio noterai due icone che si presenteranno per scegliere quale profilo utilizzare per accedere al sistema operativo ricordo che l'account guest è notevolmente limitato rispetto a quello dell'amministratore potrai in questa sezione creare un nuovo account cliccando su questo pulsante nella sezione seguente potrai decidere il nome che in questo caso lo definisco prova e in questo momento puoi fornire massimo accesso al sistema operativo se etichetterai questo account con le credenziali di amministratore oppure con utente standard che avrà alcune limitazioni e quindi non avrà totale libertà dopo di che clicca su pulsante crea account per creare il nuovo account come puoi ben vedere avrai in questo caso tre pulsanti e all'atto di avvio il sistema operativo ti presenterà tre icone cosicché l'utente potrà scegliere l'uno o l'altro profilo per poter accedere al sistema operativo da questa schermata potrai cliccando sul pulsante di ogni profilo eseguire alcune variazioni che potrai tu stesso impostare ad esempio se volessimo cambiare l'immagine del profilo prova cliccando sul pulsante relativo potrai decidere di impostare l'icona che tu meglio credi oppure andare a individuare tramite esplora risorse un'immagine che verrà sostituita a questa icona scegliamo ad esempio questa immagine e clicchiamo su cambia immagine la nuova icona sarà stata acquisita e questa icona sarà quella che rappresenterà fino alla permanenza di questo account nel momento in cui avrà accesso al sistema operativo se tu volessi eliminare l'account potrai semplicemente cliccare sul pulsante elimina account in questa sezione potrai decidere se eliminare o mantenere i file relativi al profilo denominato prova file che sono relativi alla cartella desktop documenti preferiti quindi tutto quello che vedi qui evidenziato in una cartella che verrà denominata prova all'interno del desktop a te la scelta se mantenere i file per una successiva consultazione oppure eliminarli definitivamente ad una successiva conferma cliccherai naturalmente su elimina account e il nuovo account sarà stato eliminato come puoi vedere ne rimarranno soltanto due potrai disattivare l'account guest semplicemente cliccando sull'icona e disattivandolo cliccando sul pulsante appunto disattiva l'account guest creiamo di nuovo un account per eseguire una impostazione che adesso evidenzierò come puoi vedere esiste il pulsante imposta controllo genitori clicchiamoci sopra e andiamo a impostare una limitazione per il controllo di sicurezza proprio sull'account prova clicchiamo su questo pulsante e accederemo a una nuova schermata in questa sezione potremo attivare o meno in questo caso già naturalmente disattivato quindi attiviamo il controllo genitori e potremo andare a impostare l'una o tutte e tre queste limitazioni che poi vedremo riassunte in questa sezione impostiamo ad esempio una restrizione di orario per l'utilizzo di questo profilo di questo computer all'account prova quindi clicchiamo sul pulsante restrizioni di orario in questa schermata potremo decidere se impostare le limitazioni a nostro piacere in base alla settimana e agli orari e quindi una volta impostato i parametri più o meno correttamente potremo cliccando su ok limitare l'accesso al computer da parte di questo profilo nelle zone bianche quindi negli orari rappresentati dai quadratini bianchi altra restrizione che possiamo impostare sui giochi clicchiamo quindi sul pulsante giochi qui possiamo immediatamente selezionare se l'utente prova può eseguire giochi oppure no potremo anche decisamente cliccare su no e infine su ok oppure eseguire una variazione al tema e quindi impostare l'esecuzione dei giochi ma limitarne l'uso in base a una classificazione qui possiamo impostare se consentire i giochi senza classificazione oppure bloccare tutti i giochi che non sono stati classificati oppure limitare l'uso degli stessi in base all'etichetta che viene fornita al gioco stesso etichetta definita dalla pen european game information qui il logo oppure altresì decidere se bloccare una limitazione che blocchi il gioco in base all'etichetta del contenuto ossia se contiene contenuti sessuali oppure se presenta discriminazioni o si faccia riferimento all'uso di alcol e droghe oppure giochi d'azzardo linguaggio volgare oppure limitare o concedere l'accesso ai giochi online o limitare l'accesso ai giochi che evidenziano paura violenza quindi come puoi ben vedere un'ampia scelta di limitazioni che possono essere adeguate in base all'utente ancorché se bambino cliccando su ok avrai fatto acquisire queste limitazioni in base al gioco con il pulsante blocca o consente i giochi specifici potresti ulteriormente implementare la selezione selezionando gioco per gioco attualmente installato all'interno del sistema operativo limitandone l'uso in maniera definitiva oppure lasciandole l'uso dello stesso in maniera definitiva oppure gestirla in base alla classificazione che avrai eseguito precedentemente dopo aver terminato clicca naturalmente su ok e ci rimane di impostare eventualmente le limitazioni sui programmi clicca pure su questo pulsante e nella nuova schermata potrai decidere se l'utente con il nome prova può utilizzare tutti i programmi oppure può utilizzare solo alcuni programmi consentiti ed evidenziati nella lista che si andrà a creare dopo qualche secondo quando la lista si presenta a monitor potrai decidere se selezionare tutti i programmi e naturalmente impedire l'accesso a qualsiasi programma o naturalmente deselezionando e andando ad impostare i singoli programmi che deciderai di volta in volta di consentirne l'uso al termine potrai cliccare su ok oppure se non dovessero essere presenti in questa lista andare a selezionare l'eseguibile tramite questo pulsante sfoglia cliccando su ok avremo terminato la configurazione per le impostazioni delle limitazioni per il controllo dei genitori quindi abbiamo il resoconto di una restrizione di orario attivata una classificazione di giochi che parte da almeno 12 anni ossia vengono limitati i giochi per i minori di anni 12 ed anche è stata attivata la restrizione d'uso di programmi cliccando su ok terminerai questa impostazione a questo punto se deciderai di eliminare queste limitazioni sarà sufficiente cliccare sul pulsante prova da questa sezione e disabilitare con il pulsante disattivato ogni controllo genitore cliccando su ok avrai la limitazione annullata di seguito giusto per completare questa descrizione ti indico dei link di alcuni brevi video che sono prodotti dalla Microsoft e che potrai accedere collegandoti direttamente al suo sito nella quale vengono descritte le funzionalità appunto del controllo genitori a questo punto ti rimando alla prossima lezione per continuare questa lunga maratona descrittiva sul pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima